100 militari in più per il Friuli Venezia Giulia per presidiare i confini. Del rinforzo si è parlato oggi in via preliminare in Consiglio dei Ministri dopo l'annuncio di ieri della titolare del Viminale, Luciana Lamorgese, rientra in un ulteriore contingente straordinario previsto all'interno dell'operazione Strade Sicure condotta dall'esercito su richiesta del Ministero dell'Interno. Contingente straordinario per fronteggiare l'emergenza Covid, in questo caso legata all'emergenza in migrazione, nelle due regioni dove gli arrivi sono tornati ad aumentare, in Sicilia via mare e in Friuli Venezia Giulia via terra dalla rotta balcanica.